Buonasera, buonasera, cosa prepariamo? Proprio su questo eravamo indecisi, lei che cosa ci consiglia? Delle polpettine a pane e funghi, ma buonissime. Pane e funghi? Pazzisco che sono champignons, porcini e champignons. Buonissimo, una domanda, non è che sta l'aglio dentro? Sì, delle polpette sì, però vedi? E non le posso mangiare, sono allergica. Ve le faccio fare senza, senza aglio, le polpettine a pane e funghi, senza aglio. Sì, allora va benissimo, grazie. Va bene. Grazie, grazie. È un problema questo fa dell'allergia, non posso mangiare niente, devo sempre informare che sta là, che sta là. E tu? E tu? Che cosa? Hai qualche allergia? Io no, diciamo che le allergie... Poi...si allergico o no? Che succede con l'allergia? Vabbè, che succede? Dipende. E non è che... ognuno c'ha una sua manifestazione particolare, però diciamo che il sintomo più comune è che ti si gonfia una parte del corpo. Sì, sono allergico. Sì. Come sono allergico io. È vero. Tre, quattro volte al giorno all'allergia che viene fuori. È vero. Un'allergia. È vero. È vero. E' vero.